ecco in questa breve meditazione voglio fare un ringraziamento per un bell'incontro che abbiamo fatto ieri alla madonna di trapani con la presenza del nostro padre sandro che il nostro superiore provinciale e poi anche dirti qualcosa preso dal vangelo di oggi perché c'è un bellissimo messaggio ieri abbiamo fatto questo bell'incontro in cui facciamo anche un passo avanti nel nostro cammino di fede e anche nella esperienza un cammino d'inizio di esperienza più profonda del carisma di sant'annibale in quest'amore immenso che gli ha dato per la salvezza di tutti ottenendo nuovi apostoli alla chiesa invece il vangelo di oggi è preso da luca 12 e c'è questo racconto del ricco che fa un raccolto straordinario tutto contento fa i progetti per il futuro allarga i granai eccetera eccetera poi dice a se stesso hai molti beni goditi la vita ecco poi invece dio gli dice questa notte stessa ti sarà richiesta ti sarà chiesto conto della tua vita tutto quello che hai accumulato a chi andrà ecco poi gesù conclude commenta lui stesso questa parabola così è di chi tesoreggia costruisce tesori per se stesso e non arricchisce davanti a dio ora qui in questa parola di dio per noi c'è proprio una medicina e un grande aiuto la medicina di guarire dalle illusioni del possedere avere tante cose a noi finché non siamo istruiti aiutati dal signore ci fa pensare che avremo una vita lunga felice se abbiamo tante cose sia della cultura sia delle amicizie sia dei beni materiali e questa è un'illusione è un'illusione per due motivi intanto le cose non possono appagare le ispira aspirazioni più profonde del tuo cuore non hanno questo potere noi lo vediamo tante persone ricche che tu diresti non gli manca niente e non sono contente la percentuale dei suicidi è più alta tra i ricchi che tra i poveri e poi sono illusorie anche questi beni circa la felicità perché noi non sappiamo quanto dura la vita noi in genere accumuliamo per assicurarci il futuro nostro e dei nostri figli ma a volte facciamo i conti senza l'oste come si suol dire perché non sappiamo quanto dura la nostra vita e così anche nel ricco della parabola questa notte stessa ti sarà chiesta la tua vita io ho avuto un fratello che è morto all'improvviso a 37 anni sembrava che stesse bene così e quando il signore chiama si parte sia che uno ha tanto sia che uno ha poco ecco poi la parte positiva di questa parabola invece è che il signore dice che dobbiamo arricchire davanti a dio dobbiamo arricchire perché noi abbiamo questa aspirazione a una vita piena a una vita bella questa questa aspirazione viene da dio non dobbiamo però sbagliare strada nel realizzarla questa aspirazione si realizza crescendo nella carità nell'amore di dio il grande tesoro è la carità l'amore di dio perché questo non solo ci dà gioia e pace fin d'ora dal senso della vita terrena bensì è ciò che resta oltre la soglia della morte noi andremo dal signore attraverso la morte portando non le case non il conto in banca non le lauree che abbiamo sudato ma andiamo nudi con tutta la carità che si è sviluppata nella nostra anima quindi arricchire davanti a dio arricchire davanti a dio come si fa vivendo con amore attimo per attimo con tutto l'amore di cui siamo capaci adesso ti benedico e ti auguro ogni bene il signore sia con te padre santo grazie che ci dai un nuovo giorno immeritato un nuovo giorno per conoscerti di più per amarti di più per servirti di più nel nostro prossimo offriamo a te signore anche la nostra tiepidezza e a volte le sofferenze gli ostacoli che abbiamo perché siano come un carburante per crescere nel tuo amore e per questo benedico i tuoi figli in ascolto nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo una santa giornata grazie a tutti grazie a tutti